Mi piace molto essere qua. Si vede il mare fuori. Ci prepariamo a girare? 3, 2, 1, action, ciao! È stato bello riprendere in mano un lavoro che abbiamo iniziato due anni fa. Siamo tornati tutti cresciuti, più consapevoli, ma soprattutto con la fame di fare un buon lavoro. A differenza di la prima, si entra ancora più nel profondo, nel vissuto di questi ragazzi. Ce l'abbiamo, ce l'hai chiusa, bravi tutti! C'è una generazione di attori solo in mare fuori. Io ho passato dei momenti bellissimi con loro. È stato stupendo rincontrare tutti. Sono creati dei legami veramente, veramente belli. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao, ciao! amici miei abbiamo quasi finito abbiamo con noi la guardia più cattiva di tutte non è vero come non è vero assolutamente non sono un buono dentro dentro ma fuori frequento questo mondo da 22 anni da tantissimo penso di poter dire che è la prima volta che ho un'esperienza con un cast di questo tipo cioè forse è stata la più forte della mia vita spero di lasciarvi sempre un qualcosa di positivo e magari perché no un bel messaggio da seguire ma questo è il backstage mi ha fatto un po di attenzione si è creata una dimensione che fa non si dorme più perché di giorno lavoriamo e la sera andiamo a cena facciamo e quindi siamo distrutti però si è creato un gruppo bello ci vedremo ci rivedremo molto presto ciao ciao